L'amministrazione ha deciso di apportare un aumento al buono pasto delle scuole materne, un aumento di 80 centesimi per ogni bambino, però una cosa che andava precisata e che va precisata è questa. Tutti i bambini o comunque le famiglie che sono ed erano esentate l'anno scorso, che avevano i requisiti, quindi parametri ed erediti al di sotto di 10.600 euro e con un bambino con un handicap a carico o con famiglie numerose, con tre figli, comunque tutti i requisiti che erano previsti l'anno scorso per l'esenzione e per l'esenzione si intende non pagano il buono pasto perché il buono pasto è a carico del comune e parliamo di una spesa che va oltre i 100.000 euro che il comune sostiene per questi bambini. Per tutti gli altri c'è un aumento, ad eccezione dei nuclei familiari al di sotto di 10.600 euro secco, dove l'aumento degli 80 centesimi non c'è, quindi continueranno a pagare 3,60 euro. Naturalmente questo aumento si è reso necessario perché anche il buono pasto per il comune è aumentato, quindi anche con questo aumento non andiamo a coprire tutta la spesa che il comune sostiene, però era necessario comunque farlo. Sul fatto della merendina che non viene somministrata, a differenza dell'anno scorso, ci sono stati dei problemi inizialmente che sono stati assolutamente risolti. I bambini continueranno ad avere la merendina prima del pasto, così come era somministrata negli anni precedenti e quindi anche questo allarme è stato assolutamente tamponato e quindi il problema risolto.